Buonasera, sono Carmela Corombo, la responsabile di tutto questo. Scusatevi, però stasera saremo particolarmente lieti, siamo veramente particolarmente lieti a vedere molti giorni. Mi raccomando, cellulari accesi, app scaricate, auricolari, perché con Safochi assisteremo a qualcosa che non si è vista. Questa è una prima mondiale in questa formazione. Io vi presento i 24 entroi. Adesso c'è il mio collega, carissimo collega, maestro Gabriele Otaiano, che vi illustrerà la programmazione. Farò il mio pop-out della situazione, quindi concedetemi anche questo onore e questo piacere anche. Questi sono 12 pianisti, ne vedete 11 perché il dodicesimo sarei io, e 3-4 anni fa abbiamo iniziato questa avventura, 24, 24 Enns Project Piano. Se andate sulla pagina Facebook o quelle diavoli di elettroniche troverete tutto quello che abbiamo fatto, una trentina di concerti, due cd all'antico, l'ultimo registrato poco tempo fa. Non entriamo in competizione, ma allarghiamo gli orizzonti del pianoforte. Mentre la mia collega si è cimentata con la classe di elettronica e dei compositori contemporanei facendo tutte queste cose con l'ausilio dell'elettronica, perché qui c'è stato veramente chi è stato il vostro faro illuminante, noi Napoli ce la siamo dovuta sbrigare diversamente e ci siamo inventati questa cosa. Recupereremo anche noi queste difficoltà, ci sono in baldo tanti progetti. Io vi annuncio brano per brano, quindi vi spiego che cos'è e poi cominciamo a suonare. Sono tutti pianisti diplomati e non, ve li presento uno per uno, Giuseppe Aprea che è anche l'autore, Emily Braid, Angela Lucera, Antonella Giovannelli, Lorenzo Corrado, Rosario Ariosto, Giuseppe Leone, Luca Scognamiglio, Francesco Giovannelli, Rosario Sanzino, Antonella Cipriani. Noi cominciamo con Trish Trash Polka, è passato da poco a Natale per 16 mani, una trascrizione di Luca Scognamiglio.